Ciao a tutti, JokerGamer riprende, ma non sono ancora arrivato alla missione aerospaziale, niente. Ancora è dura arrivare fino a lì. Vediamo se mi cambia la balestra, passo alla lanciagranate. Comunque è roba di server, cioè ci sono server che tu entri, non va? Apri il menu. Niente, mi ha lasciato la balestra. Ah, attiva, eccolo qui. Qui si può attivare anche fucile di precisione, calibro 50. Eh, potrei provarlo, però poi col mirino. Questa è chiusa. Dai, proviamo a fucile, via. Non l'ho provato. Hai scelto un'arma bella, potente. Ok. Devo vendermi un po' di roba. Tutte le cose che ho vinto. Allora, questo via, questo via, questo via. Anche questo, smonto tutto. No, niente, è già smontato, via. Questo non l'ho mai provato. Battitore, lo teniamo qui. La CR è 250, però, il punteggio. No, vabbè. 253, 240. E sono i vecchi che avevo, che ho ancora. Questa fa i danni elite. Questa aumenta l'abilità. A me non riuscissi a fare un kit di quattro pezzi. Questi qui, con la faccia del lupo. Niente, neanche uno. Andiamo qui. via andiamo a un po' di rosa bello fare affari con te mi sarà decisamente utile mi serviva proprio proprio ciò che speravo ne cercavo uno da un po' proprio ciò che speravo bello fare affari con te sono felice di aver concluso l'affare l'attrezzatura migliore in città vieni a dare un'occhiata l'acr lo vendiamo ok ho finito allora vediamo il controllo come sono messo nel territorio devo stare ancora qui devo rimettere a posto tutto qua dentro e poi posso muovermi andiamo a vedere questa esecuzione ok civili in difficoltà ecco io volevo questo ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui no Io non tocco niente, guardate, io non lo so. Niente da ridere quanti difetti che c'ha sto gioco, forse mi ha fatto questo perché così il cambio, togliamo sto fucile che non serve un cavolo, o il lanciagranate o la balestra, via, cos'è che sta stupendo, si non mi interessa, cos'è che sta, non so come è uscita fuori questa roba qui eh, si è fatto ESC, ma che cazzo. la mia lanciagranate a volte basta solo un lanciagranate e il gioco è fatto non so come ha fatto uscire fuori la chat quando io non ho azionato niente ok tutto automatico qua di division a volte, boh fa tutto, lei chat chat non mi interessa due ostaggi, non sono importanti, si sono importanti fino a un certo punto allora museo aerospaziale eh come ci arrivo dc collezionabili cosa mi ha dato qua comunicazioni teatro teatro progressi l'efficienza non mi interessa sfide crab trenta di cento con la pistola uno di venticinque ok cerchiamo sto posto non me lo fa vedere fino a quando non arrivo lì qui io segno questi due qui poi vediamo ecco ha ripreso i suoi blocchi naturali mi sono vado con una si poi ancora Sì. 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 Sì, sì, sì. La divisione vi vuole sottomettere. Vuole consolidare il potere. In passato abbiamo tollerato strontate del genere, ma le Iene non lasceranno che succeda di nuovo. Noi non l'abbiamo. Sì, sì. 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 Agente richiede supporto. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Un'altra. Sì. Sì. PIAVE DESI REGLIETTI. S& S& Adesso proseguo dritto. ok qui non c'è niente ok qui c'è un'altra ancora il reietti siamo a 2 punteggio che fa troppo basso per affrontare la prossima roccaforte ho capito ma vediamo questa cassetta ancora il reietti allora questa è la loro zona mi sa vediamo quante si c'è un movimento credo alle spalle come stiti fuori è la mano che me ne sono accorto in tempo ok andiamo a faiare qui lì? che c'è qua dentro? Grazie. Ok, vamos a guardar. Ok, vamos. Ok, vamos. Ma... Qua sale di corazza però, danni i fucili. Ok. Questa è 68. Ok. Qui c'è il lucchetto. Ecco qua. Ecco la cassa. Libero 300 questi. Ok. Ok. No, no. Va bene. Ok. Allora questa ho trovata. Vediamo l'inventario quante chiavi ho trovato. Risorse. 6 chiavi dei reietti, due black toast, due zona nera, iene niente. Non c'è niente. C'è qualcuno. Ok. 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 Grazie. 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 Voglio vederti crepare. Malfunzionamento del sistema. Ci deve essere uno con la corazza pesante. Rinforzi in viaggio. Grazie. 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 ellipse conquistato accesso al deposito rifornimenti sbloccato ellipse ok il video lo stacco qui poi riprendo come al solito avanti un altro video ciao a tutti ciao